L'esercito russo respinge attacchi nemici e infligge pesanti perdite all'Ucraina nelle ultime 24 ore, l'esercito russo ha sventato due contrattacchi nella regione di Lyubimovka e Plekova. I tentativi di avanzata nemica sono stati respinti, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. In totale, le forze russe hanno bloccato cinque tentativi di sfondamento del confine da parte delle unità ucraine nella direzione di un nuovo percorso. Le forze del gruppo militare Nord hanno continuato le loro azioni offensive, infliggendo perdite significative alle forze ucraine nelle aree di Lyubimovka, Darina, e Nikolaeva. Negli scontri nella direzione di Kursk, le forze ucraine hanno subito la perdita di oltre 350 soldati in un solo giorno. Dall'inizio dei combattimenti, Kiev ha registrato più di 1900 militari persi. Tra i danni subiti, sono stati distrutti otto veicoli blindati, tra cui veicoli da combattimento della fanteria, mezzi corazzati da trasporto e sei veicoli da combattimento. Inoltre, sono stati colpiti quattro cannoni d'artiglieria e un sistema di difesa aerea Tunguska, insieme a una stazione radar di produzione israeliana, un veicolo di recupero corazzato M88 degli Stati Uniti e 12 automobili.